Ho comprato ieri questi fiori di hibisco con cui si fa il tè al calcatè e l'ho comprato in erboristeria. Adesso mi sono guardata un po' di video su youtube su come si fa questo infuso questa cosa e ora lo metterò in frigo. Ho messo i fiori in acqua fredda perché pare che si conserva di più la vitamina C. Ciao ciao! Il calcatè potrebbe aiutare a ridurre la pressione del sangue. Secondo alcune ricerche, infatti, estratti di hibisco assunti per via orale per 4 settimane saranno efficaci come ipertensivi tanto quanto il farmaco. Saranno però necessari ulteriori studi per confermare questi benefici. Grazie per la visione!